A Gusto Fornari, un grande film il tuo, la casa di famiglia, una grande emozione per il premio che ti è stato consegnato poc'anzi? Beh sì, assolutamente sì, perché questo è un festival che io seguivo da ragazzino, perché è nato vicino al mio paese, quindi ci andavo, la sera tornavo, che finivano i bus, tornavo a piedi a casa pur di vedere questo festival, insomma è una roba che è davvero un pezzo di infanzia e prendere questo premio è un grandissimo per me riconoscimento. Un'abitura del festival del Cerase, questa rassegna cinematografica straordinaria, tu non manchi mai l'attore più importante del momento, Marco Giallini, grazie Marco. Ma grazie a voi, grazie a voi, no non manco mai perché mi chiamano, io quando mi chiamano vengo. Un grande onore per noi. Grazie, ci sono quattro, come sa, questa d'oro, come era questa d'oro? La terza d'oro, no sono contento anche perché dice Carlo Verdone che porta bene, a me porta sempre bene questo festival. Tutti dicono che questo festival porta bene, quindi anche tu hai potuto notare questo? A livello di carriera direi proprio sì. Ormai sei diventato uno dei più grandi attori italiani. È vero, non posso smentirlo. Una rassegna cinematografica straordinaria, una grande attrice premiata, Daniela Poggi, è una grande emozione per me. Ma com'è stato interpretare il ruolo di Francesca, Daniela? Non è stata una passeggiata, è stata particolarmente una strada in salita, faticosa, perché sono dovuta scendere nella sofferenza, nel dolore della mia Francesca, essendo poi tra l'altro il film tratto da una storia vera e quindi rendermi conto che cosa poteva voler dire trovarsi in ginocchio a chiedere l'elemosina nella disperazione più assoluta, non avendo più ciò che era però di suo diritto normale avere, cioè la sua pensione. Raccontiamo le 400.000 persone che si sono ritrovate in questa condizione, in questa situazione e la dignità che non hanno mai perso, la voglia di combattere che non hanno mai perso, la speranza comunque un giorno di poter riuscire a risolvere. Da quando ti è stata data la sceneggiatura, hai accettato immediatamente? Ma ne ho avuto, ho chiesto di leggere prima bene la sceneggiatura, il copione, poi ci siamo incontrati, avevo molta paura, avevo paura magari di non poter essere sufficientemente credibile, ho detto magari la gente è abituata a vedermi in un certo ruolo, e invece lui mi ha detto no perché tu sei tu, vai bene, sei perfetta. Io credo che Ciro Formisano, questo giovane regista, ti abbia dato anche un qualcosa di più a dispetto di altri registi, quali la sicurezza che sicuramente l'Esodo sarebbe stato un film molto sentito. Sentiamo poi il regista. Per me è stato un grandissimo onore lavorare con Daniela Poggi, è quello che l'ho sempre detto, fin dal primo momento, e tra l'altro c'è una novità, nel senso che ho passato a setaccio la produzione cinematografica italiana degli ultimi due anni e questo è l'unico film negli ultimi due anni in cui l'attrice protagonista compare dall'una, dalla prima all'ultima scena. Quindi è un one-one movie. Un grande patron del Festival delle Cerase, questa rassegna cinematografica che abbiamo sentito che è la 33esima edizione, qui invece a Monterotondo siamo alla sesta edizione. Quindi incontriamo quest'uomo eccezionale che è Silvio Luttanzi, a cui faccio veramente tanti complimenti. Lo sai perché è la 33esima edizione? Perché non abbiamo mai seguito l'onda politica di nessuno. Bravo Silvio. Questa è una grande risposta, ti ringrazio Silvio. Ed ancora, appunto, Marcello Foti, grazie di essere qui Marcello e di aver preso questo premio speciale, devo dire che è stato documentato appunto poc'anzi da Silvio che è anche un premio molto ambito. Grazie a Silvio per averlo assegnato, ma più che a me, al Centro Sperimentale di Cinematografia che è una grandissima istituzione storica, la più antica scuola di cinema del mondo e un centro di formazione di eccellenza per il nostro paese, conosciuto in tutto il mondo e questo ci gratifica molto. Ti ringrazio, grazie per tutto quello che fai e tra l'altro grazie anche per quello che hai detto perché le tue parole che abbiamo ascoltato sul palco sono state molto significative perché hai detto che portare il cinema in piazza non è... molto bene, perché il cinema vive nelle piazze, vive a contatto con le persone sono le persone che alimentano questo sogno straordinario. Grazie, grazie a te, grazie. Ferzan Obstetek, qui a Monterotondo al Festival del Cerase questa rassegna cinematografica veramente molto sentita, grazie di essere qui. Grazie, grazie a voi, sono molto 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 emozionato, molto contento, molto felice. È stata una bella esperienza essere qui, vedo tanta gente che ha apprezzato molto il tuo lavoro quindi per noi è molto importante averti in questa città. Soprattutto per me è molto importante perché una giuria popolare avere il consenso così mi ha fatto un enorme piacere. Grazie, complimenti per tutto quello che fai, per quello che ci dai, per le grandi emozioni, attraverso la pellicola che ci fai, che ci dai e questo è molto importante per noi. Grazie, grazie di cuore. Grazie. 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 Grazie a tutti.